Le ho detto che si tratta di un'emergenza, avrete pure qualcosa! Eh, temo proprio di non poterla aiutare, il problema è che tutti gli aerei da combattimento sono fuori per la parata, non abbiamo neanche un jet disponibile. Non mi importa che tipo di aerei siano, basta che volino, prendo qualsiasi cosa! Sbaglio ha detto qualsiasi cosa! È presto per dare inizio alla fetta, amici! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Io trovo che siano i migliori in circolazione, ma non tutti li apprezzano. Quegli affari possono volare veramente? E chi sono i piloti? Lascia fare a noi, in fatto di disinfestazioni siamo i più forti, non c'è problema! Oggi fa freddo ragazzi, copritevi bene! Dove si va di bello? Dobbiamo bombardare Saturno! E pianta, vado di dire stupidaggini! Questi aerei non possono andare nello spazio! Dovete sorbolare Alba City, non avete letto il piano di volo? Calmo cowboy, stavamo scherzando! Ci vediamo! Incredibile! Si sono alzati davvero! Perché si sorprende? Quegli aerei fanno parte del nostro museo storico, non volavano da almeno una cinquantina d'anni! Ah? Grazie a tutti. Grazie a tutti.